Giovanni deve mangiare un piccolo libro dolce e amaro allo stesso tempo. Simboleggia la parola di Dio, che se accogliamo davvero nella nostra vita può renderla sì più saporita ma allo stesso tempo c'è anche dell'amaro da ingoiare. Perché? Perché la parola di Dio per cambiare la mia vita in bene mi chiede anche di fare uno sforzo, delle rinunce, delle scelte e non sempre abbiamo la voglia di farle. È un po' come con le medicine, a volte dobbiamo ingurgitare qualche pillola amara ma è per il nostro bene, per la nostra salute. Accogliere la parola di Dio non è una passeggiata di salute, non è sempre facile perché se la prendiamo davvero sul serio, se l'accogliamo davvero sul serio ci chiede di cambiare un po', ci rivoluziona un po' la vita, ci chiede di metterci in discussione e questo sì ci fa del bene ma allo stesso tempo ci chiede di passare per dei tagli, delle scelte, vuol dire anche dire dei no. Tutti noi corriamo il rischio di ascoltare le parole del Vangelo, della Bibbia ma di non farle entrare in noi, di non mangiarle, di non digerirle, di non assimilarle, di non farle diventare parte di noi stessi esattamente come quando mangiamo il cibo che diviene parte di me. Ci sono alcuni passaggi da compiere rispetto alla parola di Dio. Il primo è accettare di ascoltarla mentre spesso siamo in ascolto solo e soltanto di noi stessi. Diamo retta a tutti a tutto meno che a Dio. Secondo passaggio da fare è ascoltare allora questa parola, leggerla, ascoltarla, rileggerla, riascoltarla. E terzo è farla entrare in me e qui le cose si fanno toste, per questo che dobbiamo chiedere aiuto allo Spirito Santo, chiedergli l'aiuto affinché la parola possa entrare in me e lavorarmi dentro poco per volta e cambiarmi un po', agire dentro di me. Non devo attendermi i risultati immediati ma devo chiedere allo Spirito di Dio di permettere alla parola ascoltata di rivoluzionare la mia vita, anche se questo può causare delle rinunce o delle fatiche, ma è per un bene superiore, per il mio bene e per il bene di chi vive con me. Buona giornata.